Se proprio di profughi una parola orribile si deve parlare, questi profughi sono i bambini della Duca d'Aosta, obbligati a lasciare durante le vacanze di Natale, è stato fatto il trasloco, la loro sede naturale in quanto l'incolumità era messa in pericolo e ricordiamo anche che la scuola Duca d'Aosta non molti anni fa era stata interessata da importanti lavori di ristrutturazione nei quali si erano spesi anche molti fondi pubblici. Beatrice Filippina, consigliere Movimento 5 Stelle in quinta circoscrizione, usa un'amara ironia per commentare il caso Bergamas-Slata per Duca d'Aosta e cerca nel contempo di ricondurlo alla sua dimensione più propria, scevra dalle polemiche politiche, ovvero una questione che riguarda la didattica. Ricapitoliamo, i lavori di risistemazione dell'elementare Duca d'Aosta hanno costretto la direzione del plesso che fa capo alla Bergamas a trasferire alcuni alunni alla Slata per di largo Pestalozzi, dove si svolgono anche i corsi di italiano per adulti, italiani e stranieri, sfrattati dalla scuola Manzoni di Via Foscolo, anche in questo caso in seguito ad una serie di lavori. Ciascuno di questi gruppi è sorvegliato dai rispettivi insegnanti, hanno aule dedicate, bagni dedicati chiusi a chiave, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problematica in questi termini. Chiediamo, questo è vero ma l'abbiamo già fatto prima di queste strumentalizzazioni, che le aule attualmente occupate dal CPA vengano restituite alla scuola ma per finalità curriculari e didattiche, senza dietrologia di nessun tipo. La questione dunque, stando alla posizione grillina, non sarebbe dovuta uscire dai confini scolastici, diciamo così, proprio perché di fatto non esiste un'altra lettura. Non esistono problemi di sicurezza e sovraffollamento all'Istituto Bergamas, ci sono sicuramente delle necessità relative al riappropriarsi di questi spazi, sono però delle esigenze di carattere didattico derivanti dal fatto che la permanenza degli alunni della Duca d'Aosta non sarà breve, che l'aumento delle iscrizioni alla Bergamas necessita appunto di ulteriori aule. C'è poi un risvolto politico e qui Filippin bacchetta la decisione dei due consiglieri circoscrizionali Medao e Ciani, fratelli d'Italia, di rinviare la discussione in merito ad una loro mozione, ricordando il lavoro del Movimento 5 Stelle con una frecciatina finale nei confronti della maggioranza comunale. Mi viene da dire che gli servissero questi giorni solamente per avere un'ulteriore esposizione mediatica e trascinarci il nostro malgrado in questa polemica. Il Movimento 5 Stelle, senza clamori mediatici, senza pubblicità, già il 15 gennaio ha portato questa istanza agli uffici competenti. Vorrei dire anche che il CPA è presente in questo istituto e ospitato perché la sede naturale è in fase di ristrutturazione, lo è da circa tre anni. La giunta di piazza governa questa città da due anni e mezzo, quindi la possibilità e il tempo di fare qualcosa si sarebbe potuto già trovare.